Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando di una rapina sventata in un negozio di gioielli in pieno centro ad Arezzo a resistere, poi mettere in fuga anche il ladro, è stata la commessa. Avrebbe aggredito in pieno centro e in pieno giorno la commessa di una gioielleria nel tentativo di rapinarla. È successo ad Arezzo in via Cavour poco prima delle 13. Il malvivente, una volta entrato nel locale che stava per chiudere, si è finto interessato ad alcuni gioielli. Poi avrebbe aggredito alle spalle la donna, l'avrebbe strattonata cercando di prenderle ai preziosi. Le urla della commessa avrebbero messo in fuga il rapinatore, scappato a mani vuote. La donna, ancora sotto shock per l'accaduto, ha riportato alcune escoriazioni al volto e è stata soccorsa dai sanitari del 118. Immediato l'intervento delle volanti della questura di Arezzo, la polizia di Stato adesso sta indagando sull'episodio. Fondamentali saranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Individuati invece i due presunti rapinatori di un colpo messo a segno giovedì scorso in una gioielleria di via Meazzini ad Anghiari, un uomo e una donna provenienti da Rimini, che con tecniche di distrazione sicuramente affinate nel tempo, erano riusciti a mettersi in tasca oggetti piccoli ma di un valore consistente. I due sono stati individuati dai carabinieri di Sansepolcro, fermati e perquisiti. Ancora con sé avevano la refurtiva che poi è stata riconsegnata al legittimo proprietario. I due sono stati denunciati per furto, ricettazione e possesso di armi e oggetti atti ad offendere. Incidente stradale oggi intorno alle 11.30 in Val di Chiana, a Foiano della Chiana, in via di Lucignano, si è trattato dello scontro tra due auto, due persone, sono rimaste coinvolte e ferite un uomo di 62 anni e una donna di 44, trasportati al pronto soccorso della fratta in codice giallo sul posto, i carabinieri di Cortona. Scoperta dalla polizia municipale di Castiglion Fiorentino una parrucchiera abusiva è successo nei giorni scorsi e in queste ore alla donna è stata notificata una sanzione amministrativa. Un risultato arrivato grazie ad una serie di controlli messi in campo a seguito della campagna per la legalità di CNA Benessere, proprio per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di affidarsi esclusivamente a chi rispetta le regole. Un ordigno bellico è stato ritrovato da un bambino al Prato, ci racconta tutto Chiara Sadotti. Un servizio di vigilanza fino all'arrivo degli artificieri, quindi questo è il turno che è nostro, poi ci daranno il cambio i colleghi, penso, della questura. Continua il presidio delle forze dell'ordine del Parco del Prato ad Arezzo in attesa degli artificieri, qui infatti un bambino ha ritrovato una bomba della Seconda Guerra Mondiale. È successo domenica pomeriggio, il piccolo di sette anni stava giocando con il metal detector nel parco cittadino quando lo strumento ha segnalato la presenza di un oggetto, mai però il bimbo avrebbe immaginato di aver scoperto una vera granata. L'ordigno è stato trovato sotto le foglie e un leggero strato di terra. Ad allettare la polizia, la madre del piccolo. Trovedendo anche la profondità della buca è proprio quasi in superficie, quindi mi posso già immaginare l'espressione del bambino quando ha trovato questa cosa che non conosceva sicuramente, è stato diciamo anche abbastanza pericoloso insomma, vista anche la profondità, però è andata bene. La zona affollata di gente in una domenica pomeriggio primaverile è stata immediatamente circoscritta. Gli artificieri infine hanno disinnescato l'ordigno e lo hanno messo in sicurezza. Due ulivi simbolo della pace e della resilienza piantati a fianco del cippo installato nello spazio antistante la centrale operativa del 118 al San Donato lo scorso anno per celebrare i 30 anni appunto della operatività dell'emergenza urgenza e per testimoniare la continua e costante vicinanza e collaborazione degli operatori sanitari con la polizia municipale. con questa cerimonia la polizia municipale ha ricordato i 172 anni dalla sua fondazione assieme alle autorità, ai vertici ASL e ai responsabili delle parti medici e infermieristici. E adesso ci spostiamo a Monterchi. Oggi è una giornata importante per il Museo della Madonna del Parto. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Quella di oggi potrebbe essere una data storica per la comunità di Monterchi dopo oltre 30 anni di una chiarella infinita sul collocamento dell'affresco di Piero della Francesca alla Madonna del Parto, un sopralluogo da parte del Ministero che potrebbe essere l'inizio per apporre la parola fine appunto a questa lunga vicenda. Nel 92 in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Piero della Francesca chiedemmo alla soprintendenza di effettuare un restauro in un locale di proprietà comunale consentendo contestualmente ai visitatori di assistere al restauro in diretta. L'affresco, l'opera è rimasta in questo contesto e sinceramente funzionava. Probabilmente a fronte di questo successo, tra virgolette diciamo così, sono maturati anche altri appetiti. Bisogna partire dal 1992 per capire perché quella di oggi per Monterchi potrebbe essere davvero una giornata di svolta. Dopo una serie di battaglie giudiziarie tra Comune, Diocesi e Ministero della Cultura oggi il sopralluogo dei funzionari del Ministero per capire se e come finalmente mettere la parola fine alla Chiarelle sul collocamento della Madonna del Parto di Piero della Francesca. Venire qui significa anche dimostrare l'attenzione che il Ministero ha per un dialogo, per valorizzare insieme all'opera anche il territorio che quest'opera contiene. La sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno successiva ad un pronunciamento del Tar determina che l'affresco debba tornare nella cappella di Momentana dove è stata fino al 1917 e che si trova adiacente all'attuale cimitero del paese. Noi ovviamente rimaniamo nelle nostre convinzioni che per avere una valorizzazione, una tutela del bene non si debba portare la Madonna del Parto all'interno del cimitero, però questo è un momento importante di confronto, di analisi. Oggi il sopralluogo in entrambi i siti. Il lieto fine mettiamolo in conto, guai non prevedere un lieto fine. I tempi saranno dettati anche dalle risorse che saranno messe a disposizione e dalla progettualità che avrà a che fare con queste risorse. Patrizio Bertelli, il patron di Prada, avrebbe acquistato il caffè dei Costanti. Ad Arezzo mancherebbe soltanto l'ufficialità. La notizia era ormai nell'aria da tempo e ha preso consistenza negli ultimi giorni dopo che il cartello di vendita è stato rimosso dalla sala cinesca del locale, abbassato ormai mesi fa dopo che l'ultimo gestore aveva purtroppo gettato la spugna per i troppi costi. L'epilogo positivo trapela da più parti e andrebbe proprio a sugellare la trattativa avviata nell'autunno del 2021 tra l'imprenditore e banca intesa proprietaria dello storico caffè. Bertelli ha evidentemente preso a cuore le sorti di Arezzo e in particolar modo di piazza San Francesco perché giusto un anno fa aveva rilevato la proprietà della buca di San Francesco, il ristorante che si trova appunto proprio a due passi dal caffè dei Costanti. Adesso invece parliamo di idrogeno, una delle frontiere per quello che riguarda le energie rinnovabili. Il protagonista di questo progetto è Centria, una società del gruppo Estra. Partirà nel mese di aprile il progetto Smart Hydro Grid per la transizione energetica e la decarbonizzazione profonda, progetto che vede Centria, società del gruppo Estra, tra i coproponenti. Ora questo è un obiettivo della transizione energetica molto importante e strategico per tutti i paesi del mondo. Noi sappiamo che stiamo consumando molto più di quello che la natura e il mondo è in grado di restituirci. Quindi questa della frontiera della ricerca è l'unico vero strumento, è l'unica vera possibilità che abbiamo per cercare di trovare soluzioni alternative e accompagnare non soltanto diciamo con buoni propositi ma anche con azioni concrete il percorso verso la transizione energetica. L'idrogeno insieme al solare fotovoltaico sarà la vera svolta della produzione energetica del futuro proprio perché sono due forme di produzione dell'energia da due fonti diverse ma sostanzialmente a impatto zero. Ora sul fotovoltaico l'esperienza è molto più sviluppata. Sull'idrogeno siamo ancora molto in fase di sperimentazione e di ricerca. Il nostro contributo in questo progetto vuole essere proprio quello di un'azienda come Estra che si mette a disposizione insieme ad altri partner per provare a sperimentare un utilizzo efficiente dell'idrogeno per la produzione di energia elettrica. Grazie alla collaborazione dei partner si svilupperanno modelli digitali a supporto della gestione e del controllo in real time due gli impianti pilota multi-energy che sorgeranno presso la sede Centria di Arezzo e presso la sede Techfem di Fano. Partiamo dal presupposto che la rete di distribuzione in Italia è un'infrastruttura energetica molto diffusa, capillare, ha un'estensione superiore a 250.000 km che al di là del numero la rende un'infrastruttura che raggiunge tutto il territorio nazionale. Per cui poter iniettare anche piccole quantità di idrogeno nella rete di distribuzione con costi non eccessivi, con complicazioni tecniche affrontabili e soprattutto con tempi piuttosto rapidi consentirebbe di decarbonizzare fin da subito ampie porzioni di consumi finali per quanto riguarda le utenze con percentuali già oggi possibili dell'ordine del 2% e poi a crescere nei prossimi anni del 5% per esempio. Quindi è assolutamente strategico poter sperimentare in questo senso l'iniezione di idrogeno nelle rete di distribuzione. In particolare il progetto si pone l'obiettivo di andare a studiare le iniezioni di idrogeno nella rete di distribuzione del gas. Per cui ovviamente oltre ai partiti tecnologici e ai partiti di ricerca la presenza di Centria, del gruppo Estra, dà la concretezza dell'applicazione pratica dell'iniezione dell'idrogeno sulla rete di distribuzione. Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia e già presidente del Senato nonché collega e amico di Giovanni Falcone, torna ad Arezzo giovedì 30 marzo alle 10 incontrerà gli studenti dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca nell'ambito del progetto nazionale promosso dall'editore Feltrinelli che guida una serie di azioni rivolte proprio alle scuole per permettere ai ragazzi di incontrare appunto i grandi protagonisti delle nostre istituzioni. Siamo alla pagina della cultura, torna con uno spettacolo ospitato al Pietro Aretino Z Generation, questa volta protagonista Fondamenta Zero con lo spettacolo Una Talpa. A che ore è arrivata e a che ore se n'è andata da lui? Non lo so, io non mi ricordo, non mi ricordo niente di lui. Senta, c'è stato un omicidio. Al teatro Pietro Aretino sono tornati gli appuntamenti della rassegna teatrale Zita Generation Mitz Theater a cura di Officina della Cultura in collaborazione con Fondazione Guido D'Arezzo, protagonisti dell'ultimo appuntamento i giovani componenti della compagnia Fondamenta Zero con Una Talpa. Accendo la musica, spengo la musica, tiro pugni sul volante, la mia velocità aumenta, dove sto andando? Lo spettacolo parla dell'incapacità di dire stupro, abuso, violenza sessuale e della ricerca disperata di un'altra parola per poter definire quello che è successo. Ci troviamo in un commissariato, è successo che è stato ucciso colui che ha compiuto questa violenza sessuale nei confronti della protagonista e noi ci troviamo in un commissariato per capire chi è stato ad ucciderlo. Però questo è solamente la linea superficiale di trama, poi da lì quello che ci interessava, che interessava ad Emilia, la regista, era lo sviluppare, il far vivere a chi guarda questa esperienza, trovandosi completamente travolto dalle sensazioni, dallo spazio, dal tempo, dalla confusione che si vive in un decorso di questo che può succedere. Vanno avanti da molto al mese e non li danno fastidio, sono fatta l'avitudine. Il tutto parte dal suono di un cantiere martellante che si fa sempre presente come realtà, che inonda la scena e questo ritmo forte presente diventa anche onirico, diventa una musica più melodica, più insistente come qualcosa, un'idea che si insinua nella testa poi della protagonista. C'era una donna ferita sul prato che dalla mente nessuno mi toglie Ero nascosta in mezzo alle foglie ed il suo cuore avrei divorato Ed infine siamo allo sport poker di vittorie per l'Amen Scuola Basket Arezzo che ha espugnato anche il campo della capolista Prato. Tante emozioni alla palestra Toscanini di Prato dove l'Amen Scuola Basket riesce a piazzare la zampata vincente e conquistare i due punti sul campo della prima della classe. I padroni di casa cominciano la partita con tre triple consecutive. L'Arezzo dopo un time out di Coccio Evangelisti comincia ad entrare in ritmo. L'Amen è dentro la gara e con due triple di Pelucchi e Provenza al prima impatta quota 25 e poi lo stesso Provenza al firma e il primo sorpasso a Maranto partite in equilibrio sino all'intervallo. Quattro minuti dopo il rientro dagli Spogliatoi i ragazzi di Coccio Evangelisti sono ancora avanti poi una tripla di Smecca allo scadere rompe la parità dando tre lunghezze di vantaggio alla squadra di casa. I secondi scorrono con le squadre che non riescono ad essere precise in attacco. Fornara suona la carica con la tripla del pareggio 62-62 a 3 minuti e 30 da giocare. Dalla lunetta Prato si porta sul 66-64 a 90 secondi dalla fine poi due magie in penetrazione di Toia lanciano l'Arezzo avanti 66-68. Sul fallo sistemico Provenza non sbaglia e sigilla il 70-66 a 15 secondi dalla fine. Dall'altra parte Arezzo commette fallo su Pacini che realizza il tiro libero ed è rapido a conquistare il rimbalzo sul secondo. Il suo piazzato da due riporta la Sib ad una lunghezza di svantaggio. Un nuovo fallo su Toia manda il playmaker della sbailunetta. Dopo il primo errore il secondo libero viene sbagliato deliberamente non permettendo a Prato di avere una soluzione di tiro. La sirena suona e l'Amen può così festeggiare il successo strappato con determinazione in un campo molto difficile. Con questi due punti i ragazzi di coach evangelisti accanciano in classifica la Virtus Siena e si preparano ad affrontare due incontri casalinghi consecutivi a partire da quello di sabato 1 aprile alle 19 al Palace Portestra. Giornata ricca di impegni e soddisfazioni. Quella di ieri per il Vasari Rugby Arezzo nella mattinata si è svolto. Il primo torneo Vasari per il Meyer a favore appunto della fondazione dell'ospedale pediatrico Fiorentino con la partecipazione di circa 150 bambini della categoria Under 9 da tutta la Toscana. Una mattinata di gioco, divertimento e sensibilizzazione in cui i bambini oltre a divertirsi e praticare il loro sport preferito hanno contribuito anche a raccogliere 1.405 euro in favore della fondazione. Un grazie va anche allo sponsor della giornata, Ati Group. I giovani atleti del Vasari hanno conquistato un glorioso terzo posto. Nel pomeriggio invece la prima squadra, accompagnata in campo proprio dai bambini, ha vinto contro il Prato. La partita valevole proprio per il campionato di Serie C, mantenendo così la vetta della classifica. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie per la visione!